ecco voi il teatro di Bè e Kiki ciao bambini e bambine io sono Bè la coniglietta più bella che c'è ciao a tutti e tutte io sono Kiki e Galletta più bella che c'è ma non fai mica lì ma cosa stai dicendo? fa lo stesso lo volevo dire ma cos'è tra le mani cioè tra le zampe? e beh questo è un cucchiaio perché dicono che in giro c'è un nemico con la corona io gli do una botta se lo vedo ma cosa dici beh questo nemico si sconfigge in modo gentile l'ho sentito dire persino dal signor sindaco ma cosa dici? come devo fare? ti devi semplicemente lavare le mani e le zampe ma dai basta tu mi prendi in giro mi sbaffetti cioè mi sbaffetti no no è verissimo mettiti al cucchiaio dicono i grandi che questo nemico è un virus minuscolissimo nemmeno lo vedi e lui ha soltanto da avere un sacco paura delle mani pulite ma le mie zampe profumano sempre perché io mangio sempre le carote vieni vicino senti che profumino che fanno ah lo immagino faranno un profumo postolentissimo sempre a cercare carote carote in mezzo alla terra e comunque non mi devi venire vicino per un po' di tempo ma uffa perché? chi chi? ma tu? perché non sei arrabbiato con me? ma non ti siamo mica litigato? o sì? o no? o sì? o no? nooo non abbiamo mica litigato sciocchina è solo perché per tenere lontano questo minivirus non si deve stare molto vicino perché lui sai può saltare per esempio saltare da me a te allora vai là in fondo per un po' non ci vedremo oh oh non ci potremo abbracciare allora per un po' sì ma non occorre che io vada tanto lontano sai basta che siamo a un metro di distanza così l'unica cosa che non possiamo fare per un po' è abbracciarci ah eh allora mi è venuta una bellissima idea aspetta che non ti muovere va bene dai lì eh non ti muovere no non mi muovo ecco e quello cos'è? eh ho fatto una pallina di carta te la tiro tieni ah ah oh che carino ma sei stato troppo gentile ecco ti volevo dire così che sei il mio amico più del cuore più del cuore che ci siamo un bacio da lontano chichi chichi sì grazie sei stato molto gentile avete capito bimbi le manine vanno lavate spesso sì vanno lavate proprio spesso perché il virus si combatte così e non vi mettete mica le dita nel naso tanto lo sappiamo che di solito lo fate va bene? va bene? sì beh che i bimbi sono più bravi degli adulti lo sai? sì bimbi un bacio a tutti e kiss on everyone beso para todos grazie 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 grazie